signori ricatto d'amore commedia romantica con la bullock ryan reynolds 2009 piuttosto prevedibile per carità e niente di spettacolare vabbè la bullock quando ci si mette brava a recitare questo film molto brava certo il film non è un super film un 7.3 carino prevedibile e le solite cose di una commedia basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale al solito lasciate un like ciao ciao